Ciao, sono Massimo Temporelli e se non ci conosciamo ti dico che da più di 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Lo faccio un po' ovunque, dalle aule universitarie al web, dalla radio alla televisione e oggi mi trovo nei Roche Studios, nella sede italiana di Roche, per raccontarti di un nuovo progetto a cui ho il piacere di collaborare. Infatti, tra i tanti argomenti che mi affascinano e che mi piace raccontare, il rapporto delle persone con la propria salute mi sta veramente a cuore e grazie al supporto di Roche Italia ho avuto l'occasione di addentrarmi nei tantissimi cambiamenti che stanno radicalmente trasformando la sanità. Tecnologie, processi, modelli organizzativi, attorno a noi tutto sta cambiando e anche noi, come persone, ancora prima che come pazienti abbiamo un nuovo ruolo. Possiamo parlare a tutti gli effetti di un nuovo patto tra i sistemi sanitari, i professionisti della salute e le persone. Possiamo dire che sta nascendo l'Homo Salus, primo protagonista del suo benessere e della sua salute, con il supporto naturalmente degli altri attori. Se mi vuoi accompagnare in questo viaggio alla scoperta della sanità che cambia, ti aspetto su Medora.it, dove trovi il trailer e le puntate del podcast intitolato appunto Homo Salus alla scoperta della sanità che cambia. Ti aspetto!